Ciao Anteprima No anteprima, la versione beta Ovviamente io, la modalità che mi piace di più di questo battlefield È la modalità conquista perché si fanno tantissimi punteggi Quindi ne approfittiamo subito subito E andiamo a conquistare immediatamente la C Allora, facciamo attenzione se qui c'è qualche nemico Allora, ho messo le partite di 40 nemici Quindi dovrebbe essere stracolmo di nemici Ok, stiamo recuperando C Con calma e sangue freddo Dai, so che la riusciamo a recuperare E che cazzo Allora, facciamo una bella cosa Andiamo sempre di joypad Perché oramai mantieni per saltare Ok, 40 persone sono veramente tantissime Andiamo, andiamo, andiamo da questo paverde Perfetto Attenzione che ce l'abbiamo tutti qui Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo Tutti qui Ok 40 persone Sono 40 persone Ah, pezzo di stronzo 68% Abbiamo tolto pure parecchio, cazzo La campagna, raga Per il momento Non la sto capendo Tanto, tanto, tanto bene Quindi Per il momento L'ho messa un po' da parte Mi gioco un po' il multiplayer Mi diverto un po' Perché, ripeto Non sto capendo Comunque, raga Vogliamo conquistare un po' di bandiere Perché qui Siamo messi malissimo Allora, in primis Andiamo un attimo in opzioni Madonna, mi ha passato uno Allora, opzioni Comandi Sensibilità 50 E mettiamo 50 Poi Avanzate Qua voglio mettere 50 Ok A posto Pure 55 Vediamo un po' di più nuove Guarda Vedo sempre lento Comunque Lo vedo sempre lento Comunque Ci mette tantissimo a girarsi Guarda qua Ci mette ancora tanto a girarsi Oh, l'ho ucciso Granata adesiva Abbiamo ucciso uno, eh Così a colpa A fortuna, raga Cioè, proprio Sono stati veramente fortunati Tanto qui sopra ci deve essere uno Ma è amico, credo Sì Ci mette tanto a girare Io non mi trovo Questi cazzo di Quando incontri un uomo Con la pistola Quella con la matragliatrice Spacca i culi Ed è vero, raga È una cosa verissima Oddio, c'ho pochissima energia No No, 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 no C'è pochissima energia Prossima volta Prendiamo un bel Medikit Un bel medico Attenzione dietro È sempre Lo ripeto Con sto già Cazzo di joypad Non mi ci sto trovando Oh Come cazzo ha fatto Uccidermi What? Eppure mi stava Da sopra il cavallo Cioè Dovevo vincerla io un po' Come comodità Comunque Vabbù Mi ha ucciso lo stesso Allora Voglio prendere medico Anche se con l'assalto Mi trovo ad addio Allora Facciamo una bella cosa Andiamo Niente, proprio Stiamo proprio Perde tantissimo Oh, raga Ma in che partita di merda Mi sono trovato Almeno una Non dico tanto Almeno una Andiamo a vincere Non dico tanto Una Poi questi Non segnalano un cazzo Almeno la C Non dico tanto Andiamoci a pigliare la C Anche se questi qua Oh, piazzata Piazzata bene Pure Quella cazzo di Di bomba Aia Dai Prendiamocelo Dai Ok, sono stato promosso Vabbè La versione beta Non so perché Ma proprio Saltata tantissimo Vediamo quanti punteggi ho Oddio quali era il tasto destro Attenzione perché da lì Mi è morto un amico Quindi E che cazzo Madonna ragazzi Non mi sto trovando proprio Con sto joypad Lasciamo di nuovo il joypad Vediamo un po' Fin quando non trovo La versione La versione Proprio Comoda Eh ma io C'ho comunque C'ho il mouse Scarico Comunque Andiamo qua Un po' Schieramento Oh, vedi già Questa versione qua Come Come è spettacolare Vedi come si muove già il mouse Qui riesce a capire Un qualche cosa Sì che alla fine È lo stesso Super veloce Però Qua con la Q Vero che se Quindi stiamo conquistando Stiamo provando Ad andare a conquistare Eeeh Qualunque cosa Possibile immaginare Dai seguitemi Niente Niente raga Niente proprio Ci stanno a fare il culetto Sto facendo 4 a 4 1000 E 543 punti Sono veramente pochissimi Eeeh Il medico Cosa abbiamo a disposizione Oltre questo qua Cosa abbiamo Niente Abbiamo solo questo Solo questo Qua abbiamo la granata da fucile La sacchetta Granata da fucile Niente raga Ancora dobbiamo Salire tantissimo Di livello Per poter sbloccare Le altre cose E vabbè Pian pianino Ci giocheremo Vabbè Io ho intenzione di Di prenderlo Questo Vabbè Ci stanno facendo Proprio il culo Ci stanno facendo Proprio il culo Cioè quello Si è messo Lassopra Con la mitragliatrice Che sta proprio A fare la strage Mortacci Tu E dai Dai che c'è un cecchino Da quelle zone Dai Dai che c'è un cecchino Da quelle zone Su Troviamo Su Madonna Quanti cazzo sono Però Da solo Dove cazzo vado Da solo Uff Odio Odio Quando iniziano a fare Guarda la guarda D'altri non pure Stanno altri nemici La B la stiamo conquistando Ma non so Con chi Stavo facendo Veramente Schifissimo Proprio schifo Poi con sto cazzo Di fucile Non mi trovo Per niente E dai cazzo Però Sparalo Ok raga Sto cambiando arma Sto prendendo l'assalto Raga No Non mi ci trovo Proprio Poi quando non Non sblocco Il fucile Non mi ci sblocco Proprio Non mi trovo Proprio Poi nessuno Che li segnala Sante misere Esiste Esiste La Q Esiste Esiste La Q Esiste Per segnalare I nemici Ok Oh almeno Una l'abbiamo ucciso Vedi come cambia La situazione Non sto facendo Nulla di granché Però già Che cambia la situazione Un po' Può essere Comoda Allora Andiamo un po' Guardate Guarda Stanno conquistando C Stanno conquistando C Occhio Che c'è quello là Con la bagianetta Che lo sto sentendo Urlare Eccala Abbiamo perso Di brutto pure Raga Di brutto Madonna Di 500 Poi Io dico io no Battlefield Fa certe squadre Assurde proprio Vabbè 1817 Comunque Non è male Come prima partita Del gioco In sé per sé Originale Diciamo Va Siamo arrivati Il livello 1 Caparzo Qua Caparzo 78 Ha fatto Più kill Di tutti Non capisco Forse ho ricevuto Un premium Ricevi Non posso Non posso Fare un cazzo Perché frammenti Massa leggendaria Cingurramo Nella promosa Versa Coltello Sivettato Non capisco Ancora Ancora Devo capire Un po' Il gioco Indietro Seleziona Medaglia Niente Non possiamo Fare proprio Nulla Credo Ragazzi Questo è stato Il primo episodio Di Battlefield 1 Abbiamo fatto Schifissimo Giusto per farvi vedere Un po' Come è fatto Il gioco Ci vediamo In un prossimo Video gameplay Un bacione E al prossimo Video Ciao a tutti Raga